di racconto sempre per me emozionante, piacevole, perché come molte volte dico, tu puoi fare il parlamentare molto tempo, io l'ho fatto anche abbastanza, ma poi quello che ti resta sono come si dice le opere, perché hai fatto una, due, tre, quattro aggistature e poi nemmeno una legge, sei stato contento ma non hai prodotto. La legge di orientamento alla riforma dell'agricoltura ma anche non agli OGM e Polita, ministro dell'ambiente e anche la riforma che ha dato all'Italia l'energia solare e il fotovoltaico, insomma, tra le cose di cui io sono orgoglioso. Ma chi mi resta molto orgoglioso era l'ex presidente nazionale di Codiretti, un tale Roberto Concaldo che vedo qui, che quando fu eletto presidente di Codiretti, ogni altro anno non lo conoscevo, la prima cosa che mi disse, se vuoi ti so che è colpa tua, perché lui ingegnere, se non c'era la legge di orientamento avrebbe fatto l'ingegnere, e tu in es, quindi sarebbe stato sicuramente in qualche settore dell'automotive probabilmente, invece il collegio di orientamento lui decise di fare l'entrida diretta, di aprire cose, quindi io trovai un presidente giovanissimo da oggi non diretta, era trentenne all'epoca, adesso è fatto vecchietto ma non so quanti anni c'ha, ma sempre sembra semigiovane e devo dire che l'idea che dei giovani che sono avvocati, ingegneri, architetti eccetera, decidono di mettere aziende agricole, quindi ovviamente lui aveva ereditato anche aziende agricole, ma tante persone se non riuscivano a creare un valore aggiunto che non fosse solo la produzione base, ma la trasformazione, l'accoglienza, l'ospitalità, tutte le altre cose, queste hanno reso molto più redditizia un'attività agricola, in realtà il concetto di allargare il significato di attività agricola a tutto ciò che è attorno a questo, e stamattina nell'intervento di Gesmundo, stamattina quando parlavamo dei mercati di agricoltore, il farmer market, poi diciamo la verità, questo villaggio è un'estensione di quel concetto dei farmer market, perché siano arrivati i farmer market a fatturare nell'insieme 5 miliardi di euro all'anno in Italia con migliaia di agricoltori che vendono direttamente, è una cosa che io non avrei dato scontato oggi, poco fa i miei collaboratori della rete codice hanno detto facciamo un post, io il post che ho fatto è non avrei mai pensato, quando facevo quella legge, che il mercato potesse essere ospitato al circo massimo a Roma, dove ci facevano i concerti, le grandi cose, ma mica pensavano di fare il mercato dei contadini, era considerato una cosa tutto sommato il contadino una cosa che doveva stare in campagna, è facile questo contadino in città, addirittura poi in un luogo così, e invece il lavoro è andato avanti e devo dire che Granieri è un altro che mi ha dato soddisfazione quando ha pensato di fare l'olio vicino al Colosseo, di prendere gli olivi in quella zona e fare un olio, cioè il concetto è riuscire a sviluppare queste cose, ma arrivando al turismo che è poi l'oggetto di oggi, io poi ne in un'altra delle varie vite che ho fatto, ormai da 15 anni io insegno turismo sostenibile alle lauree magistrali di Milano Picocca, prima, ha cominciato a Milano, Roma Tor Vergata da 12 anni e quattro anni, Napoli Federico II, e insegno esattamente itinerari, faccio parte dei miei studenti, sono tutti itinerari, il turismo ecoturismo e il turismo enogastronomico, e devo dire che avendo la visione di Milano, Roma e Napoli, è una visione bellissima, perché la biodiversità di questo paese, di cui parlavamo prima, dalle Alpi, diceva prima Carmelo penso stava dicendo, dalle Alpi a Lampedusa, obiettivamente l'Italia ha un record di ecosistema, questo paese, ma io ogni volta cerco di far fare itinerario per esempio dal Limone alla Stena Alpina, perché i miei studenti del nord, quelli vicini a Regalda, possono raccontare come in Italia è uno dei pochi posti dove in una giornata puoi passare dalla Stena Alpina al Limone del Garbo, con ecosistemi totalmente diversi che in altri luoghi necessitano di migliaia e migliaia di chilometri per trovare una situazione che va dai 3.000 metri d'altitudine al 2005 all'ecosistema di tipo mediterraneo che il Garda ti offre sia su Limoni sia sugli olivi. Quindi esiste questa bellezza, esiste questa ricchezza. Noi siamo un grande paese turistico, ma come io ti insegno fa un po' di tempo, il paese italiano e in Italia sono arrivati prima i turisti e poi il turismo. Quindi un paese che è abituato che tanti turisti vengono comunque, se ne fotte di progettare i sistemi turistici. Non so se il linguaggio è troppo duro per i nostri amici del turismo campano che sono dei signorini, ormai non vogliono usare. In Italia noi di fatto non programmiamo, non programmiamo niente in generale perché siamo un paese creativo litigato con l'organizzazione. Però nel turismo in particolare ne abbiamo overtours, siamo passati all'ouvertours ma allo zero turismo del covid, adesso ne abbiamo il problema di organizzare almeno minimamente alcune cose. Nelle campagne c'è uno spazio enorme, come giustamente si dice, la via di campagna amica, di cui mi onoro di presere il Comitato Scientifico, i cammini di generale del gusto, sono un esempio delle tante cose che si possono fare. Ma farle davvero con un occhio alla capacità di usare tutti i nuovi strumenti. Io da due anni insisto perché la nostra sia una sfida eco-digitale. Sicuramente non stiamo facendo una transizione ecologica e che gli agricoltori sono in un momento strategico. Ma noi dobbiamo usare al meglio il digitale, tutte le opportunità che abbiamo attraverso il digitale, per consentire a tanti produttori di arrivare ai tantissimi consumatori del mondo che puoi oggi intercettare con questa opportunità. Facciamolo con intelligenza e con forza. Sappiamo che oltre di agriturismi, sono un altro specifico italiano, solo l'Italia ha la legge sull'agriturismo e fa la connessione dell'agricoltura, è anche là, me ne occupavo pure prima la Presidente della Commissione dell'Agricoltura. Ma il turismo in campagna, il turismo rurale, il turismo degli itinerari, il turismo dei pellegrinaggi, il turismo di tante altre cose che si sviluppa nelle campagne deve essere e può essere una grande frontiera anche di una grande realtà come campagna lì. Grazie, grazie mille, grazie, grazie Alfonso, assolutamente sì.